Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul mio videoblog Mi scuso subito per l'assenza continua tra dei video e altri e continuo a scusarmi in tanti video ma purtroppo la mia vita è fatta così è molto movimentata e piena di impegni e a volte quindi mi ritrovo a dover non abbandonare ma comunque tralasciare un attimo delle cose quindi mi scuso davvero tanto per l'ennesima volta per non essere tornato qui fra voi sul mio canale a rilasciarvi i miei video ma sono stato tanto impegnato in quanto ho deciso anche di quest'anno iniziare l'università iscrivermi al corso di laurea triennale in informatica perché in quinta avendo avuto un buon risultato al diploma mi ha portato ancora di più a questa decisione sono stato diplomato cioè sono passato all'esame di stato di quinta cioè l'esame di maturità con l'84% su 100 punteggio totale 84 su 100 e quindi un buon risultato per avere comunque appunto diciamo un buono spunto per decidere di iscrivermi poi all'università oltre poi ovviamente alla convinzione che mi hanno dato anche i miei professori e niente che dire quindi come avete capito dall'inizio del video sono stato molto impegnato perché ho avuto un precorso iniziale di tre settimane che è finito venerdì tra cui abbiamo avuto un piccolo test quindi tra lo studiare poi ho fatto altre cose mie ovviamente aggiustato pc formattazioni di qua di là test di software e tante altre cose per cui è stato molto impegnato e mi scusa ancora ancora tanto però oggi sono tornato vi prometto che da oggi in poi cercherò di non continuare a scusarmi ma di portare più video sul mio canale e di accontentare tanti utenti con vari tutorial varie news eccetera 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 oggi oltre al video ritorno e scuse ennesime scuse diciamo vi porto anche dato che come vedrete sono di nuovo su Mac ma questa non è non è Mac OS X Yosemite ovvero è uscito l'aggiornamento al fine del no inizio fine settimana scorsa di Mac OS Sierra che adesso ha cambiato del tutto nome infatti non si chiama più Mac OS X ma solamente Mac OS nome in codice Sierra versione 10.12 beh diciamo quali sono le novità importanti di questo aggiornamento alla fin dei conti dato che porto questo video per tornare fra voi vi porto anche Mac OS Sierra come diciamo video video recensione dato che comunque così prendiamo un argomento per tornare bene e ripartire col mio canale le novità principali sono avendolo testato per bene non sono molte a dire la verità però noto molta più velocità molto più velocità del sistema in quanto è già molto veloce il mio Mac perché comunque è un top di gamma fino a 2013 con un processore i7 16 giga di RAM DDR3 a 1600 megahertz un ssd da 500 giga e due schede grafiche una una dedicata della Intel da un giga e mezzo che è una Intel Iris Pro la quale viene proprio utilizzata dal sistema e viene utilizzata come scheda grafica principale e l'altra è una Nvidia GeForce non mi ricordo il modello adesso ci dovrai guardare guardiamoci insieme utilizza come qua potete vedere eccola la seconda scheda grafica è una 2048 mega cioè di 2 giga di RAM è una Nvidia GeForce GT750M comunque è un computer di prestazione elevate diciamo un Mac a prestazione elevate e infatti non mi posso lamentare perché è già molto veloce però ho notato dei miglioramenti anche a livello di software ovvero c'è anche l'ottimizzazione da parte che adesso vi faccio vedere da parte di Apple che ha integrato delle nuove funzionalità nel suo file system ovvero se noi adesso andiamo in informazioni Mac o comunque anche si può entrare anche dal pannello di preferenze di sistema andiamo in gestisci se noi andiamo a gestire qua lo spazio in consigli abbiamo i consigli su come gestire al meglio il file system ovvero attivare delle cose in più delle funzionalità se noi facciamo archiviazione allora lui cerca di ottimizzare il disco spostando la maggior parte dei file in iCloud quelli diciamo un po' più obsoleti ovvero che utilizziamo di meno lui ci fa una copia in backup su iCloud e dal Mac dopo un po' di tempo se continua a vedere che noi non utilizziamo quei file ce li tiene archiviati in modo che noi possiamo ripristinarli poi sul nostro Mac in iCloud e li cancella dal Mac liberando spazio automaticamente e comunque tutti questi tipo di future poi abbiamo un trigger automatizzato per il cestino come anche su Windows su Windows 10 in cui elimina automaticamente gli elementi presenti nel cestino dopo un tot di giorni che di solito ha un mese cioè 30 giorni poi appunto l'archiviazione su iCloud e l'ottimizzazione in generale di molti servizi Apple ovvero tipo su iTunes film che già visti oppure non so oppure musica che non ascolti lui va a cancellare automaticamente e tiene tutto archiviato in iCloud o comunque mantiene lo stato di download da poter ripristinare e cancella però il file fisico in modo da tenerci ottimizzato il nostro sistema Mac cosa molto buona ovviamente l'utente ha la scelta libera su come gestirsi il suo spazio non è detto che devi per forza utilizzare tutte le funzionalità ecco qual è la politica di questa di queste nuove funzionalità per il resto la novità più importante è ovviamente Siri finalmente su Mac arriva a Siri e ve lo mostro subito lo abbiamo sia possiamo tenerlo sia qua in alto nel pannello dove tengo la freccetta cioè la diciamo la barra delle applicazioni di Mac diciamo così comunque la barra qua in alto di Mac possiamo attivarlo sia da qua o lo richiamiamo dalla dock dalla dock di Mac si può richiamare Siri lanciandolo e lui ci chiederà come posso aiutarti non so se ho capito bene ovviamente adesso ci ha risposto così perché non è una frase contemplata nelle sue funzionalità anche perché stavo continuando la guida quindi ho citato questa frase ma se noi ad esempio andiamo a chiedere qua intanto abbiamo una buona guida su come che funzionalità integra la versione Mac perché adesso la versione Mac vi dico già che non è ottimizzata come quella di iOS in quanto lì ci sono già molte più funzionalità adesso perché è una versione già più avanzata di Siri queste sono le prime versioni di Siri che viene portata su Mac e poi verrà ovviamente aggiornata col tempo però in confronto ad iPhone diciamo che Mac integra anche delle funzionalità proprio a livello di sistema anche su iOS ci sono ma qua sono molto più estese le funzionalità di sistema ovvero se noi vogliamo chiedere tipo a Mac quanto spazio abbiamo disponibili sul nostro Mac basta citargli una frase del genere quanto spazio ho sul mio Mac e lui ci risponderà subito andandosi a calcolare dalle informazioni di sistema quanto spazio abbiamo libero ci mostrerà un pulsante con mostra dettagli e ci permetterà di entrare subito nelle nostre informazioni e noi andando in archivio vedremo appunto la realtà dello spazio libero sì 381 ma 380 comunque è quella l'informazione noi possiamo anche chiedergli che tempo farà domani farà bel tempo domani la temperatura raggiungerà 26 gradi e ci sarà il sole ok qua ho praticamente la funzionalità che avrete visto già in tanti anche su per chi ha ovviamente un sistema Apple mobile ovvero iOS queste sono le risposte di Siri cioè questa Siri in generale poi tanti lo conosceranno ma anche chi non è utente iOS credo comunque questa è la novità più importante in quanto comunque appunto Siri ti permette adesso di fare molte cose anche su Mac attraverso esso altre novità importanti rilevanti come vi ho già detto non ce ne sono ovvero queste erano le due future più innovative dell'ultimo sistema ovvero l'ottimizzazione del l'ottimizzazione del file system e del sistema Mac e Siri poi c'è la funzionalità in versione beta che non è ancora versione finale ma è ancora in versione di sviluppo però possiamo potremmo già iniziare ad utilizzarla per chi ha ovviamente un sistema Mac nei suoi software Apple Page, Number e Keynote ovvero i software per la produttività ha integrato la funzionalità di collaborazione come c'è anche su Microsoft Office nelle ultime versioni in cui tramite account online possiamo collaborare con altre persone a vari documenti o comunque creare degli spazi di lavoro avere corpi buona cosa anche quella anche se dipende sempre da chi ne fa utilizzo a chi servono queste funzionalità però sempre delle funzionalità in più e che altro di innovativo come ripeto non c'è praticamente nient'altro di rispetto alla vecchia versione Yosemite diciamo cioè praticamente il resto praticamente quasi invariato quindi per questo cioè mi fermo qua con con questa breve recensione sul nuovo sistema Mac perché non c'è più praticamente niente ne ho sto controllando ma non penso proprio in quanto comunque appunto sono rimaste invariate tante cose cioè questo che vedete qua adesso che vedete il tema scuro c'era già è una impostazione di Mac che puoi convertire i colori del tema e metterli scuro io non l'avevo mai usato ma sapevo che c'era ma dato che adesso mi è venuto quella voglia di utilizzarlo ve lo ce l'ho ce l'ho attivato però non è una funzionalità nuova diciamo poi niente ragazzi il resto tra i vari impegni ho anche portato avanti un po' le funzionalità del mio sito ovvero non so se le avevo già mostrato avendo acquistato il dominio con one and one ho attivato la protezione one and one c'è il mio sito adesso viagginhttps come potete vedere qua in alto ho aggiunto dei nuovi articoli che vi consiglio di guardare se già mi seguite o comunque di seguirmi per chi non mi segue già e iniziare a conoscere appunto anche il mio blog che mi farebbe piacere anche a me crescere insieme a voi in queste cose e grazie a voi posso farlo in poco tempo per chi mi segue per chi mi continuerà a seguire e per chi mi seguirà anche in futuro e intanto vi continuo a ringraziare anche perché sul canale vedo che iniziano ad aumentare gli iscritti sono salito a 53 iscritti e al centesimo iscritto farò un video di ringraziamento sto salendo molto anche di visualizzazioni infatti ringrazio molto gli utenti anche per le visualizzazioni e mi vengo visualizzato molto di più al giorno sono felice anche di questo risultato come vi ho già detto prima all'inizio del video adesso cercherò di portare molti più video molti più guide molti più news eccetera eccetera cercherò di di non perdermi solo in altri impegni e invece di portare avanti bene le emettività un'altra cosa del mio sito ho attivato anche la versione mobile per chi naviga molto con cellulare tablet e comunque può usufruire della versione mobile del del mio sito che è molto carina poi devo anche dire sono riuscito a portare una versione mobile molto efficiente anche se devo migliorare ancora qualcosa però presto farò anche quello e così chi usufruirà di quella versione mobile si troverà a proprio agio diciamo apporterò anche altre modifiche al sito in quanto comunque non ho avuto tempo di fare molte più cose cioè ho fatto le cose principali ma non ho avuto tempo di far tanto altro per il resto nient'altro con questo video è tutto vi ringrazio per avermi guardato diciamo per avermi seguito per continuarmi a seguire e io vi rimando al prossimo video ciao ragazzi ciao